35 anni fa moriva Luigi Buccico, giornalista e politico, fu segretario regionale del PSI, assessore regionale ai trasporti e parlamentare. A lui si deve la realizzazione della metropolitana di Napoli e del comitato valori collinari presieduto da Gennaro Capodanno, torna a chiedere al Consiglio Comunale di intitolare a Buccico la linea 1 del metro.